GIAMMAR! 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 GIAMMARCO! GIAMMARCO! Posso dire che comunque il 26 non stava dentro al panettone mio quindi un po' godo perché no vedi madonna sai quanto avrei bestemmiato le mignotte si sarebbero fatte sentire Beppe si oh quante puttane dannazione non ne voglio parlare insomma per biciclista grazie di sé comunque si corbo pull bentornato nasone grazie per le sub te buttaggio marzo blon palle arrugginite GIAMMAR se esce il 10 ti è vengato una 10 sub ma che dici perché oh 10 per 50 io vai marzo è il capitano che oggi si è lasciato troppi sì troppi segni troppi segni il 10 21 si che c'è il 20 buono che l'abbiamo lisciato sai che macello che sarebbe stato cab grazie per i 6 bentornato quanto fa Gio? quanto fa 25 per 50? 25 per 10 2 e 50 5 e 1000 ma non erano neanche troppi me li potevi dare porco il tuo dio Franco Gianna bentornati benvenuti 1250 ho sbagliato vabbè considerando quanto betto non è tanto uguale oh il 10 oh mamma mia oh no 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 ah sì so 50 mila euro e zitto se ti 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 e il 10 sono 50 allora non mi voglio lamentare perché l'11 lo gioco anche e quindi ho vinto 1000 euro ah bene vabbè però ragazzi 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 stava andando là porco dio della madonna beh ha vinto comunque K non se lamenta cazzo ma se me è vero una trena una temporale grazie per i 100 però sì grazie per i 5 signori vi ricorda non giocare l'azzarco ma il gioco d'azzarco si perde non vedete mai il gioco d'azzarco come una fonte di guadagno ma sempre come solo è solo come una fonte di divertimento e di intrattenimento perciò giocare sempre solo i soldi che siete disposti a perdere mai un singolo euro in più 14 14 c'ha ma c'ha ma che è un marco tocco vabbè sì però che ho il palettone mio tranquillo però so mille bomboli oh porco dio è buono è buono ma poi lo volevo quadruplicare lo volevo quadruplicare fratello l'ho fatto è figo ma hai visto come sono diventato forte a dirlo bro oh quello ha scritto bitcoin e poi una roba in turco che non capisco fammi apri subito cripto.com che cosa vuol dire vuol dire che è sceso e è salito quella roba il 22 marzo è impazzisco è sceso sì ma non me lo dà che cazzo è oddio pure il 23 il 23 porco dio l'8 guarda che guarda il numero a fianco guarda il numero a fianco guarda il numero a fianco no al 23 a fianco no però mi sta vibrando la mi sta vibrando la cornea porco dio 10 giri un altro lightning ok è sceso il bitcoin quello voleva dire in turco ah frate non me la sento quando c'è il temporale mi sento una questa è pazzo raddoppiata è bellissimo questi nomi vai pezzo gianne franco gab biciclista pool nasone palla arrugginite bentornati vabbè io no 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 niente che sta qua in mezzo è moltiplicato per me meno male oh è moltiplicato ah ho fatto 80 euro ne ho giocati 350 la fai vai vieni giamma te arzo pure l'11 e il 23 sei già mai che ho scoperto una roulette nuova ciao brian grazie di treggi che c'è ho scoperto col col cosa c'ho l'ombrella aperta no ma solo due numeri vabbè mo si possono moltiplicare però c'è possono sparare in giro non lo stanno facendo gg va bene uguale anche senza moltiplicatori vanno bene 11 o 23 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 mi piace duro mi piace grande mi piace 33 mamma mia ho 0 euro questi sono tutti persi praticamente madonna questi sono tutti persi ciao brian grazie per i treggi carmo grazie mille per il stato pregato a checco ho trovato un'altra roulette ho trovato un'altra roulette in cui ci sono due palle che vanno e a sinistra c'hai una roulette diversa dove giocare e se tutte e due le palle vanno in quel numero paga 1300 per ah vabbè la doppia si 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 ma 1300 per cioè se ci metti due euro e te capita a una eh regà oh 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 qua ha fatto male qua ha fatto male c'è 3 3 piotti ed è giocata 0 euro anzi l'11 ti prego qua ha fatto onestamente male non posso non dirlo è un po' sad dove cazzo vai per 3 ai 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 signori si è ciucciata tutta la cassa tutti quei bellissimi mille bombolotti alla crema catalana svizzera sono andati già ma dimmi un numero per 26 infatti lo carico perché non ce l'ho guarda che mossa dell'antico jaguaro lo allungo così giallo grazie per i 4 patata nicholas bentornati stanno Pietro grazie per i sub sta a partire il treno matt grazie per i 9 sabino grazie per i 5 mesetti dove va a succedere dove va a succedere nico grazie per i 20 amore mini grazie per i 5 eh ma ce ci c'ha pure questi ormai ce ci c'ha oddio ma il 26 ho calli d'autato c'è ma c'è ma c'è ma c'è marco c'è marco quanto ci avevi messo 125 euro ho fatto i mila euro vabbè te lo sei meritato te lo sei meritato what the fuck ah si non 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 può non può avere senso questa cosa ma si ma io li ho detto ho caricato solo con 15 euro ma sono un coglione ma io di norma quando dico sta cosa li carico tipo pure io tipo 50 bombolozzi porco io ho porco io ho porco io ho porco oh no non l'ho giocato non lo sto giocando il re il re il re signori vi ricordo non giocare d'azzaro perché il gioco d'azzaro si perde fondamentale ed importante questa cosa non vedete il gioco d'azzaro come una fonte di denaro ma sempre solo come una roba una di divertimento quindi non giocate mai ma che cazzo what the fuck ma che no marzo no te prego non mi aumenta ma dai quel 12 farebbe malissimo mi pare che esce il 12 leo grazie di 4 il 12 a cane ah vabbè marzo mi sembrano un po' tante oh bro porco dio 6.000 euro anzi mi sono tenuto basso perché comunque fondamentalmente perdo anche gli altri giorni eh ci fa senti un remix se qualcuno si vuole a casa stanza far maestro non è una cosa da tutti i giorni oh eh non lo sto giocando più io non sto giocando più porco dio quanto c'ho sopra 2 euro ma so fio della no ti pare che esce il 22 me potrei sgozzare si e canno è mado ma ma tipo è è è la craziest ma hai capito ma è perché è non ha senso non ha senso si non può avere senso dio merda mi gioco un fragolino si si falla la fragola yeah mado ma poi non ha senso mi hai detto un numero su 37 mi hai detto uno che è diventato lightning dio porco non ha senso non c'ha senso ma sveglia te prezzo o il fragolino ti sei fatto tutto ti sei fatto si opera ti pare che non entra un quando c'è in temporale un'altra volta mi sta di troppo zella da quant'è che non esce un 10 o un 11 il 10 è appena uscito l'11 sarà proprio una deragliata ah si si la provo pure io so pazzo e te carico mamma mia cioè qua si esce l'11 o il 23 oh mamma mia oh madonna guarda non ne parlo ne a non ci parlo ne a so 8000 euro so 8000 euro da me da te forse pure te più c'ho 50 sopra nel 4 mamma mia ragazzi non ci posso pensare non ci posso pensare non ci posso pensare ma porco dio ma poi me l'hai detta a me ma perché non l'hai caricato non lo so gioco faithful gioco faithful ma ma figli di puttana il treno parese ande grazie per i 7 pesi ventorno no no un grande fuoco rosso porco dio eh no se pare che lo vaga 31 che numero di merda Non ci voglio pensare Buono Cioè oggi e oggi se esce in profit Ma com'è successo? Porco Dio Profittone Ma sì ma sta ruota è caldissima Oggi È una stufa Ma è il 22 Certo certo Oddio 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 Se mi dà il 22 E sì mi tiro fuori il cazzo 33 Per 33 mesi Se no perdo tutto praticamente Dio cane Mado Allora sti 26 euro li metto tutti sullo zero Sdrogo Allora io vengo con te Tanto ormai Ho capito Te ho messo 26 sullo zero paro Beh ho capito Ma sì ma c'è non ca È normale perderli E vincerli E vincerli Che non è normale Non ce ne frega un cazzo noi dei bonus Tanto esce lo zero Ciao Blackkey Grazie per il sub regalato Ci stavano a vincere Guarda che c'è Maestri Se prende Veramente Se lo riprendevi Era inquietante Sarebbe Parla di Grazie per il sub Mi farei Mi farei Altri Cinque spinnetti Per lo sdrogo Ne vuoi Fam Ma sì ma sì Io kicko Un fragolino Da polappato Provo un fragolino Da polappato Eh zio La mia Ma Mi so fatto Prendere la mano Mi so fatto Prendere la mano Beh l'otto ce l'avrei Addio 380 euro Addio È stato bello amico Ci siamo divertiti Cioè nel senso La festa era incredibile Effettivamente Oh è il 10 E fai la mia Ce l'hai eh 6b8 e 64 Nice Vertu Grazie per i 5 Parla di Grazie per il sub Non me lamento Cazzo ma perché Non ho giocato la mia Poi questa paga per 20 Ovviamente No 1999 di saldo Ehi ehi Quel 12 Cazzo non sta facendo Quei per 2000 Così Quel 12 Quel 12 Nham 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 12 Nham Nham Mi sa che buono Io non ce l'ho Buono Ciao te Pianza dello strogo Ufficioso Buonasera Tutto a po' Stanco Stanco Il mercoledì A Cristo Di Dio Vabbè Possiamo farla un po' Più tardi Fino che lo fai Se la favo più tardi Sì Magari Un bel transit Dai da un botto Magari Magari Io Marzone te lo chiederei Ma so che non ti piace No te lo sai Non mi piace Beh la rovinerei solo a voi Perché non mi piace Non ci so giocare Vabbè dove ci sei tu Non ci sono cose brutte Marzone Io quello Quello ti ringrazio Però faccio cagare Cioè non so che fai Quindi vado in giro Senza fare niente Muro Vabbè E' meglio se lo dici Più che a tarfazzone O roba con qualcuno Che sa giocare Ok Provo a chiedere agli altri Bertù Grazie per i 5 Fra grazie per i 4 Sì Capiamo l'orario Ok 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 Capiamo l'orario E dai Va bene Va bene Buonasera Se usciva quel 300 Per sborra Alla frate Frate ho caricato 3 4 numeri Ho caricato Il 10 e il 21 Ce l'ho Adesso E' troppo Chiedere che riescano Un'altra volta Su che su 4 numeri Caricati su 37 Ma 24 24 Che non l'ho messo Porco Dio No Simo Grazie per i 4 Sono zombie Le god Ma non mi piace A me Mai gioca Mi faccio proprio il mio Last giro A questa A questa ruota calda Poi troviamo un attimino qualcosa Muove ringrazio Perché se vuoi possiamo andare a fare Possiamo andare a fare Che cazzo vuoi Sì sì no ma infatti Ve lo faccio giusto Un'ultima cosetta Sdrogo Ok Che c'è manca De fatti De fanni Emani Emani Quella roba del blackjack Come cazzo ti pare Non lo so Se vuoi comprare bonus Non ho idea Ti compramo se tu bonus Per C'è l'ora 19 Sì Ok 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 Vale ma è successa una delle cose più assurde della storia Gli faccio dimmi un numero Me lo dice Lo carico Esce moltiplicato E lo dà Uno Sempre last Devo perderlo O lo perdo O arrivo a 3000 De saldo O lo perdo O arrivo a 3000 De saldo Idgaf Idgaf Oh mamma Erd10 Erd10 Sarebbe caliente Ma in realtà Per giusto Francesco Dotti Re di Roma No Ripperotti Out 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 Ok Ma sai che mi sa che potresti a 10.000 De saldo Io ce sto di sicuro Vabbè Sì